E' veramente bellissimo, abituato ai grandi cosmi, ai FIFA, si guarda lì, ecco mi boicottano, tu sei della dico, io dove vado io c'è sempre della dico, ho sbagliato, una volta l'ho azzeccata, non so dove, sei della dico, beh è rimasto di freddo, adesso non so per sì, allora intanto sono proprio contento di essere qua, e allora in genere io troppo amo, troppo l'entusiasmo, chi vi è davanti in questo momento, il 18 luglio scorso, ha compiuto 83 anni. Mi sono anche freddo, poi mi dirò freddo, però mi ricordo 5 cardinali ho già avuto, pensa te non mi ha mai scomunicato, e allora, e una volta uno mi ha detto, non so se l'ha detto, ma anzi sai 5, tu prete stai scherzando, dice preghi, certo che prego, quando voi mi fate delle zuppe lì dal Papa, se non mi rivolgo al Padre Eterno, io sono nato in una famiglia, e preghi, cosa preghi? Poi ci dico io in canonica nella piccola chiesina sul porto dove siamo lì da 41 anni, dice io scendo perché sono al terzo piano e canto, pregamo, ah canti i salmi? No veramente non è proprio un salmo, e cosa canti? E poi vado in chiesa, poi c'era una chiesina dall'ufficio, e allora resti a sentire bilenza, era una molina, si può scovare, mi guardava bene e diceva su questo piano, Alla mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono svegliato, e ho trovato l'inquagno, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di buoni, e se non voglio, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, se non voglio, da partigiano, tu ti vedi, sei belli, se ti dai, la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se ti dai, la sua montagna, sono l'ombra di un bel fio, e tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao,